Alza killer garra, non partecipa al lancio, extra model. Estasi di no, con all'interno eletta star. Si delineo le posizioni, eletta star respinge estasi di no, la quale insiste a largo. Insiste, come dicevo, estasi di no. Voleva solo farla spendere, farla sfogare un pochino, vincenzo lungo. Poi, estasi di no, davanti, eletta star in seconda posizione, extra model in terza, che adesso muove a largo sul rallentamento di estasi di no. Primo quarto ultimato in 30. Dopo aver scelto la corsia esterna, extra model si adegua ai lati della battistrada e ne rispetta i parziali. 600 in 45 e mezzo. Estasi di no, affiancata da extra model, seguita da eletta star. Chiudono Elsa killer garra ed Est balleone. Si arriva così a 800 metri tattici in 1 e 1. Estasi di no ed extra model conducono a parigliati. Est balleone risale in seconda pariglia. Poi Elsa killer garra. Primo giro in 1.15 e mezzo da start a start. Nulla cambia e nulla muta anche sulla penultima piegata. Poi extra model comincia ad accentuare la pressione su estasi di no. Curva in 15 e mezzo. 1,31 per i 1.200 metri iniziali. Ancora una frazione moderata, ma comunque veloce in 14 e mezzo. Estasi di no ed extra model. Eletta star ed Est balleone. Si arriva così all'imbocco della piegata conclusiva. Miglio in 1.59 e 3. Notevoli gli ultimi 200 metri in 13 e 9. Fuoco alle polveri adesso. Estasi di no ed extra model alle prese. Ingresso in retta d'arrivo. Estasi di no prende tre quarti all'avversario che si ripropone. Estasi di no attaccata da extra model. Estasi di no ed extra model. lotta serrata, ci prove, ci crede, extra model. E Robi Vecchione su estasi di no. E Est balleone.